Buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale qui è il vostro Andrea che vi parla e vi dà il benvenuto ad un nuovissimo video che dire ragazzi mi sono preso tutto il giorno per analizzare e parlare della partita della Roma di ieri sera ieri l'ho vista al lavoro perché non ero a casa e sono contento di non aver potuto fare un video a caldo perché probabilmente avrei sbagliato l'analisi di quella che è stata poi la partita avrei magari detto cose non giuste nei confronti di tantissimi giocatori della Roma in generale e quindi ho preferito far passare una giornata, analizzare bene, raffreddarmi un pochino e poi esprimermi quello che è il mio pensiero sulla gara di ieri della Roma allora innanzitutto non voglio fare il disfattista e non credo che quella di ieri sia una sconfitta che ci ridimensioni è una sconfitta brutta che fa male che però fa parte del percorso di un percorso che speravo la Roma avesse ormai ben chiaro ma evidentemente non era così e probabilmente i 4 gol di ieri ce lo faranno capire ancora di più anche perché adesso inizia un filotto di gare importanti poi c'è la sosta per le nazionali e quindi la Roma deve subito e necessariamente rimettersi in carreggiata perché quello che abbiamo visto ieri non può essere quello che vedremo da qui in poi sicuramente non sarà così, credo che Mourinho abbia la situazione ben salda tra le mani però c'è un dato ed è il dato degli approcci alle gare sbagliate è pur vero che avevamo iniziato bene con un'azione in solitaria di Dybala la partita poteva cambiare eccetera però quelle disattenzioni che sto notando soprattutto dai due laterali e anche un po' dalla passività complessiva della squadra a inizio gara mi sta un po' preoccupando perché quello che vediamo fare a Karsdorp è un errore di semplice disattenzione e superficialità perché quella palla lì basta spizzarla all'indietro e il danno non è fatto quello che mi ha lasciato un po' perplesso è il fatto che poi la Roma abbia anche iniziato a giocare e abbia iniziato a provare a costruire sempre con una difficoltà evidente e questo è chiaro, lo diciamo, con questo doppio play Matic-Cristante che hanno questo ritmo un po' compassato con poche idee, sicuramente è difficile andare con fluidità dall'altra parte però la Roma aveva iniziato a creare, era rimasta in partita poi arriva quel maledetto gol su quella mezza amnesia di Rui Patrizio dico mezza perché poi alla fine andando a rivedere bene il pallone gli sbatte davanti all'ultimo cambia un po' traiettoria ma comunque per me c'è co-responsabilità del portiere in ogni caso quello è quello che non posso capire cioè di staccare la spina che era da tanto che non succedeva nel senso che la Roma era tantissimo che non si vedeva così in difficoltà dopo aver preso un secondo gol che ti taglia le gambe nel senso che la Roma pur perdendo partite importanti l'anno scorso anche male però da un certo punto in poi non aveva più avuto scivoloni del genere se l'anno scorso quello col Bodo Klimt c'era servito per poi fare il percorso che abbiamo fatto e per prendere una consapevolezza che dobbiamo avere credo che ieri ci sia stato un blackout totale e spero che ci sia stato ieri e che non si ripeta nel senso che come ha detto Mourinho ne abbiamo presi 4 ce ne hanno fatti 4 meglio perderne una 4-0 che 4-1-0 adesso la risposta deve essere assolutissimamente data subito contro il Ludo Goretz in Europa League non credo che Mourinho faccia troppi cambi perché è una competizione che a cui comunque la società tiene particolarmente anche dopo la vittoria della conference dell'anno scorso però ci deve essere una risposta di idee anche un pochino perché secondo me deve essere modificato qualcosa ieri l'Udinese è sembrata tatticamente più ordinata offensivamente con idee più chiare e ci ha sconfitto sotto il piano fisico e atletico l'Udinese sembrava andare a 10 km di più arrivava sempre prima sulle seconde palle altro problema che sto vedendo parecchio in questa Roma d'inizio campionato la difficoltà nell'andare ad aggredire la seconda palla proprio perché non facendo un pressing offensivo e qua altra piccola critica sperando che la Roma sappia che cosa vuol dire pressare le squadre o comunque organizzare un certo tipo di pressing offensivo perché la Roma quando deve andare a prendere alte le altre squadre fa fatica ma proprio concettualmente si slega e prende sempre queste palle dietro la linea dei centrocampisti ed è preoccupante perché ieri hai trovato una squadra aggressiva pimpante fisicamente a cui hai regalato i primi due gol e poi gli altri due ti sei smontato e l'hai fatta vincere 4-0 e poteva anche essere peggiore il risultato perché a ogni ripartenza pensavo potessimo prendere gol il problema è che se vai a affrontare determinate squadre e io ti parlo delle varie Inter, Milan e Napoli che fanno anche del gioco tra le linee il loro punto di forza rischi se non hai un minimo di organizzazione da quel punto di vista di fare molta fatica e di fare figure anche peggiori io non voglio fare il disfattista come ho detto sono fiducioso che la Roma riprenderà il suo cammino non ero esaltato dopo le prime quattro partite e non sono sotto terra dopo la partita di Udine è una partita, un passo falso che ci può stare tutte le grandi squadre, tutte le prime della classe hanno fatto dei passi falsi già nel loro percorso e quindi credo che seppur forse questo è il più brutto dei passi falsi però ci deve far capire che dobbiamo rimanere concentrati che la Roma non ha perso nulla perché sono ora in corso i secondi tempi delle ultime gare della giornata l'Atalanta comunque sta pareggiando a Monza e il primo posto è a un punto solo comunque sei lì e niente adesso devi per forza di cose reagire e cercare secondo me di trovare qualche soluzione credo che Cardorp in questo periodo non possa giocare non possa giocare perché sembra out completamente cioè sia mentalmente che fisicamente Spinazzola fa ancora fatica quindi spazio a Celic, spazio a Zaleski e magari nella partita di Europa League visto il lieve infortunio di ieri anche spazio a Belotti che ha evidentemente bisogno di trovare minuti e che può essere importante se trova minutaggio proverei anche Madica Marà perché pur sentendo le parole di Murigno in cui ha chiaramente detto che non è ancora all'interno del contesto squadra Roma però è sembrato quantomeno avere quella brillantezza e anche quel cambio di passo che può servire al centrocampo della Roma vediamo che cosa succederà vediamo quello che succederà nella partita di giovedì in Europa League quindi non disperiamo io non dispero e è un campionato apertissimo che è ancora la quinta giornata e abbiamo ancora un intero anno davanti con il Mondiale in mezzo insomma l'importante è rimanere lì e credo che questa sia l'analisi più lucida da fare quindi sottolineando le difficoltà della Roma che non sono solo della partita di ieri ma che vengono da un percorso di queste cinque partite ma cercare anche di trovare una soluzione a questo e di non disperare per una partita che doveva essere così è stata così adesso è chiusa si va avanti e si continua con il resto della stagione con tutta la tranquillità del mondo piccolo applauso secondo me va fatto per gli unici due sufficienti secondo me della partita di ieri che sono stati Di Bala che si è visto avere quella personalità in più per provare quantomeno a fare qualcosa e i Bagnas che nonostante i quattro gol presi mi è piaciuto parecchio e questo va ad evidenziare la crescita continua di questo giocatore spero di non essere stato troppo lungo questa era la mia opinione sulla partita di ieri se volete commentate qui sotto scrivetemi che cosa ne pensate della Roma in generale e della partita di ieri in particolar modo domani sera ci vediamo in live alle ore 22.30 dopo le partite di Champions per commentare insieme PSG, Juve e tutte le altre gare del martedì di Champions che ritorna e niente quindi domani sera 22.30 Tana del Branco episodio 6 se non sbaglio e niente ci vediamo domani in live ci saremo io Ruggio il profe forse non ci sarà Formica vedremo se ci sarà un qualche altro ospite grazie per avermi seguito mettete un mi piace iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi il caricamento di nessun contenuto ci vediamo al prossimo video dal vostro Andrea tutto un abbraccio e quindi al prossimo video grazie a tutti